Facciamo una prova al volo sul regolatore che abbiamo smontato, se in ingresso do ad esempio 22V vedete che in uscita 12V, quindi in effetti il regolatore 12V è ok. Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al corso di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Ricevo da Carlo questa scatola. Carlo ha lavorato presso un istituto tecnico e ha gentilmente donato al canale tutta una serie di kit di nuova elettronica realizzati dagli studenti negli anni. Quindi ci sono veramente moltissimi circuiti che adesso andremo a vedere molto velocemente in unboxing e poi nei prossimi giorni metterò fuori un sondaggio su YouTube in modo che così possiate decidere voi quale kit andare a riesumare per primo, perché sono tutti kit mezzi montati, magari qualcuno ha anche qualche errore, e quindi decideremo insieme appunto quale approcciare per primo. Veniamo al video di questa sera. In quest'altro pacco pesantuccio Claudio G. della provincia di Roma ci invia un inverter che non è più funzionante. Ho capito che è stato fatto un collegamento probabilmente non corretto, da quel momento lì si emette un fischio. Quindi come sempre tenteremo la riparazione, ma sicuramente coglieremo l'occasione per analizzare come è realizzato questo oggetto, lo schema elettrico e cercheremo di capirci qualcosa in più. E quindi, buona visione! All'interno della scatola è presente molto materiale, quindi ora li spacchetto tutti e li metto sulla scrivania. Ecco qua il messaggio di Carlo. Gentile Pier, ho lasciato i fili saldati così se vuoi dargli una provata veloce sono già pronti. Parecchi li ho controllati, ma il lineare, la radio e altri non li ho mai accesi. Quindi occhio, prima di accendere, alle polarità degli elettrolitici. Il materiale ovviamente era di mia proprietà. Se farai il video puoi anche non citarmi, oppure solo come Carlo. Al limite puoi recuperare i componenti. Cominciamo da questa radio in onde medie che farà ribollire il sangue a qualche radiomatore o anche appassionato dell'ascolto. La cosa molto carina e simpatica era il nome delle città con la frequenza assegnata. Veniamo poi qua sul tavolo dove troviamo tutti i kit. Tre esemplari dell'LX453, suoni spaziali e carry-on. LX330, trasmettitore infrarosso. LX193, che è un sintonizzatore FM, ancora da montare, abbiamo ancora i componenti in kit. LX167, un amplificatore da 4,5 Watt. LX887, lo storico ricevitore super eterodina in onde medie. LX253, che è un lineare da 50 Watt, nella gamma degli 88-108 MHz e gamma dei 140 MHz. LX677, radiomicrofono in FM. LX329, un flip-flop microfonico. Due strumenti molto interessanti della ICE, Milano. Sono due trasformatori amperometrisi. LX348-349, è un trasmettitore on-off per radiocomando. LX662, invece, è un ricevitore FM con TDA7000. LX380, alimentatore per 3 nidi. Due generatori di onde sinusoidali. E infine, un po' di elettronica recuperata da un monitor. Dunque, come si dice in gergo, tanta roba. Potete già anticiparmi nei commenti le vostre preferenze. Comunque, conto di fare un sondaggio YouTube. In modo che potremo decidere il primo da mettere in pista per l'analisi e la riaccensione. Nel frattempo, vi chiedo gentilmente se vi va di ringraziare il nostro amico Carlo. Che ci darà l'opportunità di fare rivivere questi gloriosi kit di nuova elettronica. Contenuto della scatola. Qua abbiamo un inverter ed ecoa 3500 watt. Partendo dall'ingresso a 12 volt, notiamo due bei connettori. Anche perché qua la corrente è veramente elevata. 3500 watt di potenza sulla 12 volt significa 290 ampere. Probabilmente per una potenza del genere converrebbe partire da una tensione leggermente più alta, come il 24 volt. Notiamo subito tre cavi in parallelo, qua sul morsetto positivo. Il che ci fa pensare che siano tre stadi che operano in parallelo. Poi probabilmente questi vengono inclusi o esclusi a seconda della corrente assorbita, poi sul lato 230 volt. Notiamo diversi componenti magnetici, due grossi dissipatori, e poi anche il case stesso funziona da dissipatore. Quindi un bel giocattolo, bello lungo. Ah, ecco qua abbiamo un'etichetta. Modello ed ecoa DPP35. Ingresso 12 volt, uscita 230 volt, potenza 3500 watt. Non abbiamo tante altre indicazioni, come ad esempio il tipo di forma d'onda di uscita, se è un'onda sinusoidale pura oppure approssimata. Osservandolo di lato, vediamo sotto questo dissipatore che abbiamo due gruppi da quattro semiconduttori più un altro. I controlli sono eseguiti probabilmente su questi piastrini che hanno montaggio SMT montati in verticale. Su questo pannello è presente l'interruttore di accensione e spegnimento, LED, e due prese per il prelievo della 230 volt. Claudio ci dice che per errore, per un problema a un relè esterno, la 230 volt è stata applicata direttamente sull'inverter, e da quel momento in poi l'inverter entra in protezione. Facciamo un piccolo test rapido utilizzando un alimentatore da banco GVDA impostato a 12 volt. Colleghiamolo all'ingresso e dovremmo notare, anche se l'inverter è spento, un assorbimento in corrente dello stadio di ingresso. Quindi andrò a inserire la banana sul terminale negativo e osserviamo cosa succede alla corrente e alla potenza sull'alimentatore. Colleghiamo, sì, avete visto c'è stato un po' di movimento, probabilmente si sono caricate delle capacità, ma è tornato tutto a zero. Quindi è circolata della corrente e direi che sì, sono condensatori che si sono caricati. In questa situazione di vuoto assoluto e andiamo ad azionare l'interruttore di accensione. Fischio, spegniamo. Come ci aveva annunciato Claudio, l'inverter entra in protezione. Ripetiamo l'operazione, tappatevi le orecchie per il rumore e andiamo a osservare corrente e potenza. Vedete che c'è stato un assorbimento un pochino più grande del solito, poi a un certo momento si è comunque stabilizzato, a significare che è intervenuta la protezione. Osservando l'oggetto si notano a bordo tre fusibili di quelli a lamella, tipo auto. Quindi una prima verifica molto semplice può essere tramite la pinzetta, li estraiamo. Si tratta di tre fusibili da 30A che mi sembrano integri, infatti si vede bene il collegamento tra i due terminali. Come prevedibile con i fusibili disinseriti se accendo l'inverter non abbiamo il fischio e qua viene tutto sezionato a questo livello. Siccome la 230A è arrivata sull'uscita ci aspettiamo un guaio sullo stadio di uscita, ma una piccola prova veloce che si può fare è quella di sezionare mano a mano i tre rami in ingresso per vedere se con un ramo o due o tre la cosa cambia relativamente all'allarme. Per cui prendiamo due chiavi del 10 e con un po' di gentilezza andiamo ad aprire. Per poter slacciare i cavi ho dovuto togliere anche la ventola altrimenti la vite sbatteva. E poi scopro che in realtà gli stadi sono quattro perché abbiamo questi due collegati con questo capocorda e questi altri due, sono due cavi rossi qua. Quindi un totale di quattro stadi in parallelo. Rifacciamo il test interessando solo due stadi, quindi collego il terminale dell'alimentatore a questo capocorda. Ok, tipo grillo, vediamo l'altro. Non ha fatto quella specie di grillo iniziale ma comunque il risultato è lo stesso. Si va sempre in protezione come potevamo forse intuire fin dall'inizio. Ho rimosso il pannellino frontale, adesso semplicemente tirando la scheda dovrebbe slittare sull'estruso e venire fuori. Ora abbiamo la scheda sul banco e questo ci permette di accedere al lato saldature e quindi potremo eseguire diverse verifiche. Ad esempio risalendo dallo stadio di uscita, visto che pensiamo che il problema sia stato causato da questa parte, andiamo all'indietro e vediamo se troviamo qualche componente di potenza che abbia subito delle conseguenze. Dalle due prese di uscita della 230 vediamo che ci sono questi due fili blu che sono proprio l'uscita del nostro inverter e corrispondono a questi due pin. Quindi lo so che voi come me avete la tentazione di vedere subito col multimetro che tipo di resistenza equivalente si vede fra questi due terminali. Quindi mettiamo il multimetro in modalità ometro o anche continuità e vediamo se effettivamente questi due terminali sono isolati oppure no. Ci mettiamo qua fra le due piste, ad esempio qua c'è una resistenza molto bassa. Cerchiamo di capire se è una condizione normale perché poi magari abbiamo un componente magnetico in uscita che può farci vedere la bassa impedenza dell'avvolgimento eventualmente. Se andiamo osservando il circuito stampato ho ricostruito questo schema ad inverter ma d'altro canto non poteva essere tanto diverso dovendo creare una tensione alternata a fronte di ingresso in continua. E' realizzato con un ponte ad H con 4 GBT di tipo K50 T60 e lo stadio di uscita ha un grosso induttore e un condensatore qua in parallelo all'uscita che costituiscono un filtro passabasso per rimuovere la frequenza di switching di questo oggetto e lasciare in uscita la sola componente a 50 Hz che è quella che poi verrà prodotta dall'inverter. Mettendosi con il multimetro sui punti dell'uscita quindi qui e qui abbiamo visto una bassa resistenza. Ora il condensatore non può essere perché sappiamo che il multimetro inieta una piccola corrente in continua quindi qua niente dovrebbe essere il circuito aperto. La corrente del multimetro passa sicuramente attraverso l'induttore ma poi se tutto va bene non dovrebbe richiudersi qua sul ponte ad H. Nella figura ho anche aggiunto per ogni GBT il diodo in antiparallelo che è presente. Questo ricordiamo che è assolutamente necessario tutte le volte che abbiamo comunque una componente induttiva per far ricircolare la corrente. Ma anche in questa situazione col diodo disegnato la corrente non può richiudersi quindi io qua non dovrei vedere una bassa resistenza a meno che non esistano degli altri percorsi per cui si richiude che non ho identificato. Quindi una prima verifica che possiamo fare è sicuramente sui semiconduttori per vedere che non ce ne sia qualcuno invece in cortocircuito che permetterebbe appunto questa richiusura. Ad esempio se questo fosse buono la corrente del multimetro passa da di qua se questo fosse in cortocircuito si richiuderebbe ed ecco che vedremo una piccola resistenza come abbiamo misurato prima. Ecco i nostri quattro i GBT andiamo a verificare con il multimetro in prova aggiunzione abbiamo gate collettore emettitore quindi mettiamo il terminale rosso quindi sull'anodo del diodo e il terminale nero su il centrale collettore per vedere se vediamo la giunzione. Qua vediamo un corto pure quindi questa gamba è andata stessa cosa qua e stessa cosa qua quindi sembrerebbe che il ponte ad H è completamente in cortocircuito. Come verifica visto che sono degli i GBT andiamo a vedere anche l'isolamento che si vede tra il gate e gli altri terminali quindi mettiamo il terminale nero sul gate per non iniettare della carica dentro il nostro i GBT. Fra gate e collettore vedete che c'è un corto tra gate emettitore un corto quindi qua secondo me si è proprio bucato il gate quindi acqua ha fatto un bip ma in realtà no niente. Il gate non è più isolato su questi due di sicuro andiamo a vedere su questi altri due no qua è buono eh su questi i GBT vedo l'isolamento rispetto ai due terminali quindi questo forse potrebbe essere buono e quando abbiamo fatto la misura magari veniva influenzato da quest'altro. Andiamo a vedere l'ultimo di questa gamba no quindi sembrerebbe che tre i GBT sono andati proprio con il gate che non è più isolato mentre questo sembra essere ancora buono. Allora se questo è vero li andiamo a svitare e di saldare. Succhia stagno e trecina andiamo a rimuovere bene lo stagno prima di rimuovere il componente per non rovinare le pad del circuito stampato. Prima di fare forza con le pinzette verifichiamo che i pin siano liberi e dopo si potrà sfilare facilmente. Adesso che ho rimosso il primo i GBT rifacciamo il test sull'uscita quindi con la continuità ritorniamo sulle nostre piste di uscita. 380 ohm equivalenti quindi vedete che siamo riusciti a interrompere il percorso a bassa resistenza. Andiamo comunque a rimuovere anche gli altri perché avevamo misurato col multimetro il gate non isolato. Un'altra tecnica per disaldarli è con la punta del saldatore scaldarli tutti e tre insieme e poi molto delicatamente estrarlo. Bisogna stare molto attenti però che la temperatura non sia troppo elevata. Ora che è rimasto solo questo i GBT rifacciamo la misura di resistenza sull'uscita. Ci viene dato un valore di 800k quindi direi praticamente aperto. Mettiamo in prova giunzione e vediamo quello che ci sembrava buono. A questo punto non c'è niente quindi la misura esatto. Questa è la giunzione del diodo 385 millivolt e guarda caso corrisponde con quei 383 ohm che misuravamo prima perché prima eravamo in funzione ohmetro e quindi questi 380 millivolt di soglia venivano letti come resistenza grazie al corto circuito dell'altro i GBT quindi sembrerebbe che questo sia salvato. in un ponte di 4 questo si è salvato però probabilmente conviene cambiare tutto il ponte con 4 interruttori nuovi anche perché magari questo si è salvato ma si è preso comunque una bella sberla. Quindi magari quando si rimettono gli altri poi lui potrebbe essere il primo a partire. A questo punto quindi aspettiamo in sostituzione gli GBT. Potrei prendere quelli della Fairchild degli IKV50N60 che sono dei 600 volt 50 ampere di corrente di collettore 1,5 volt di VC e SAT. Valutiamo ora la sostituzione degli GBT K50T60 Infineon con uno della ON Semiconductor l'FGH60N60. Di questi ne ho parecchi perché sono eccellenti per le bobine Tesla. Andiamo a verificare i parametri e vediamo quali sono le differenze fra questi due semiconduttori. Stessa tensione massima 600 volt per quanto riguarda la corrente di collettore e l'ON Semiconductor porta 60 ampere contro i 50 dell'Infineon. VC e SAT è leggermente più alta 1,9 volt invece di 1,5. Corrente sul diodo in antiparallelo impulsiva l'ON Semiconductor sopporta picchi fino a 180 ampere contro i 150 dell'Infineon. VGE di soglia quindi la soglia di accensione l'ON Semiconductor l'ha un pelo più bassa ma assolutamente paragonabile. Carica di gate quindi quanta carica bisogna fornire vedete che è l'ON Semiconductor 91 nC contro i 310 quindi un pochino più piccolo. Quindi direi che questo iGBT è un ottimo sostituto per quello che andiamo a rimuovere. Ho rimontato il ponte ad H avvitando i 4GBT sul dissipatore ho sostituito anche questo che era buono però è meglio avere gli stessi iGBT su questo ponte ad H. Adesso andiamo a saldare i pin e poi vediamo. Con il nuovo ponte saldato vado a fare la misura sulla resistenza di uscita equivalente vedete che abbiamo una resistenza molto elevata 300 Kilo ohm quindi significa che il ponte ad H è ben montato non ci sono corti oltre a quelli che avevamo visto dovuti agli GBT guasti. Facciamo un primo test molto spartano fornendo una 12V dal nostro alimentatore quindi andrò a collegare la boccola sul negativo vediamo cosa accade. L'interruttore dell'inverter è spento colleghiamo il negativo c'è stato un guizzo di corrente tutto fermo quindi c'è stata probabilmente la carica dello stadio di ingresso adesso andiamo ad azionare il bottone. Momento della verità andiamo a spingere il nostro tasto e vediamo cosa accade. Ah! L'allarme non c'è più eh! Sulla 12V in ingresso ho un assorbimento di una corrente di poco più di 1A quindi abbiamo un 14W assorbiti ma è tutto tranquillo. Metto un carico in uscita resistenza corazzata da 330 Ohm per cui dovrebbe assorbire poco meno di 1A. Posizioniamo anche la sonda di uno oscilloscopio ai capi del carico l'inverter non entra in protezione però in uscita calma piatta. Praticamente abbiamo zero. Qua sono a 100V di visione se aumento la risoluzione verticale ragazzi abbiamo zero eh! Quindi non viene rilevata più l'anomalia però non stiamo erogando per nulla potenza. Verifichiamo dapprima la presenza di energia a monte dell'inverter quindi ci mettiamo fra i reofori dei due condensatori elettrolitici che fanno il DC bus 425.7V continui. Quindi il ponte ad H è alimentato a questo punto andiamo a verificare i segnali di controllo degli EGBT. Mi metto tra il gate e l'emitter del primo EGBT. Ovviamente quando si fanno queste misure bisogna essere alzati da terra altrimenti possono succedere dei grandi guai con la massa dell'oscilloscopio. Con un volta di visione vedete che la tensione di gate praticamente non si muove. Si nota residuo di un comando probabilmente un po' di commutazione ma di sicuro questa tensione di comando non è buona. VGE del secondo EGBT quindi sulla stessa colonna stesso film quindi comando praticamente inesistente. EGBT3 altra colonna stessa situazione. EGBT4 avremmo potuto scommetterci dei soldi stesso film. Ricordiamoci che il ponte ad H ha preso una bella sberla quindi è possibile che sullo stadio di ingresso di pilotaggio quindi i gate ci sia qualcosa che si sia rotto. Notiamo che vicino al terminale di gate che è questo qua di sinistra c'è una coppia costituita da resistenza e diodo su ogni EGBT. Questo serve per garantire una carica abbastanza lenta del gate e una scarica veloce tramite il diodo. La situazione dovrebbe essere la seguente. Il gate quindi trova la resistenza per la carica lenta e il diodo per la scarica veloce. Questo permette di accenderli lentamente e invece spegnerli molto velocemente. Andiamo a vedere che resistenza si vede tra questi due punti quindi se ci mettiamo col multimetro in maniera che il terminale positivo sia qua e negativo sia qua dovremmo vedere solo la resistenza perché il diodo è polarizzato in inversa. Vediamo il primo diodo ai 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 due ohm e mezzo quindi questo è un cortocircuito sicuramente non funziona anche il secondo 10.4 2.6 sì sì qua i diodi mi sa che sono tutti andati e 1.2 li disaldiamo verifichiamo i quattro diodi che si trovano in package MELF quindi cilindretto allora il primo fra anodo e catodo andiamo a vedere cortocircuito secondo secondo buono eh infatti era abbinato poi all'IGBT che non si era guastato vediamo il terzo terzo cortocircuito e il quarto cortocircuito senza i diodi montati ora misuro correttamente la resistenza da 10 ohm che si trova qua in package SMD quindi effettivamente su questo, questo e questo avevamo il cortocircuito offerto dal diodo quando l'inverter è alimentato quando l'inverter è alimentato la scheda di gestione dei segnali di comando che la vediamo qua in montaggio verticale non è alimentata direi perché il led rimane spento infatti se vado a misurare la tensione a capo di questi due elettrolitici piccolini che portano le alimentazioni a questa schedina trovo zero quindi il problema è ancora a monte non abbiamo l'alimentazione di questa scheda driver la nostra scheda di controllo si trova in questa posizione riceve alimentazione da questo stadio dove notiamo probabilmente due regolatori che sono in questa zona qui qua abbiamo due elettrolitici su questo misuro una 12 volt e quindi mi sembra che vada tutto bene su questo misuro una tensione di 1.3 volt quindi direi che è una tensione che non va bene allora cerchiamo di capire se il problema risiede qua sullo stadio a monte di questa schedina che probabilmente è costituito dai regolatori ho rimosso un po' di gomma siliconica ed effettivamente sono due regolatori quello davanti è un 7805 5 volt quello dietro è un 78C12 la tensione dell'elettrolitico che abbiamo misurato a 1.3 volt entra su questo pin del regolatore 12 volt e vale solo 1.3 volt qua abbiamo il ground qua abbiamo l'uscita del regolatore 12 volt qua abbiamo l'ingresso del 5 volt vedete che sono in cortocircuito ground e qua dovremo avere la 5 volt quindi qua abbiamo 1.3 volt invece la tensione dovrebbe essere superiore a 12 volt quindi potrebbe essere che questo regolatore sia in corto misurando le varie resistenze tra i pin quella più bassa è quella che viene offerta tra l'uscita del regolatore 5 volt e il ground 30 ohm e qua però abbiamo in parallelo tutto il mondo a 5 volt come prova proviamo di saldare il regolatore a 5 volt e vediamo se senza questo carico a valle la tensione qua al pin 1 sale ho smontato anche il regolatore a 12 volt andiamo a vedere la tensione sul condensatore che sta a monte 25.7 quindi mi sa che il regolatore 12 volt offriva veramente una praticamente un cortocircuito per verificare che sia il regolatore di tensione facciamo questa prova veloce monto un nuovo regolatore di tensione sul lato saldature stando attento al pin out vediamo con questo nuovo regolatore se la tensione in uscita è effettivamente 12 volt quindi prendiamo la tensione tra il ground e l'ingresso eh no vedete che è crollata quindi la presenza di questo regolatore porta in attivazione la zona 12 volt che probabilmente è quella che dà dei problemi facciamo una prova al volo sul regolatore che abbiamo smontato se in ingresso do ad esempio 22 volt vedete che in uscita 12,25 quindi in effetti il regolatore 12 volt è ok la 12 volt generata dal regolatore di tensione è utilizzata dallo schedino driver per cui andiamo a portare esternamente con un alimentatore stando molto attenti a limitare la corrente la tensione e vediamo se questo schedino assorbe più del dovuto andiamo su piano piano per non rischiare di rompere niente quindi diamo tensione qua siamo 2 volt 40 miliampere diam pianino 4 volt 100 miliampere va ancora bene 120 miliampere si la corrente non sta schizzando 7 volt ci può stare ma qua sembrerebbe che effettivamente lo schedino assorba una corrente umana 12 volt è la sua alimentazione normale ed in queste condizioni il led si accende per cui direi che è un problema sullo stadio di alimentazione che deve generare appunto questa 12 volt quello che è a monte ma se la tensione arrivasse lo schedino si accenderebbe e credo anche che genererebbe le tensioni di gate corrette facciamo una prova volante portiamo la 12 volt direttamente sulla 12 volt quindi facciamo a meno di quello stadio che non sembra funzionare lì ho montato il regolatore 5 volt quindi adesso lo schedino di controllo ha la 5 e la 12 lo schedino di controllo è alimentato ora che la scheda driver è alimentata con la 5 e la 12 andiamo a verificare con l'oscilloscopio i pin di uscita verso gli GBT dovremo trovare i segnali di controllo questa è l'uscita verso il primo GBT ACP chi ha c'è 0 con del rumore andiamo a vedere la seconda GBT numero 2 questo è proprio 0 mi sa proprio che qua la schedina ragazzi non controlla più gli GBT è una schedina micro e non escono i segnali ai 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 purtroppo il driver non fornisce i segnali di comando ACP quindi quella botta 230 che si è preso per il collegamento errato ha compromesso anche lo stadio di pilotaggio a driver e purtroppo questo è un guaio perché questo schedino qua mi sa che è proprietario non è uno di quei controller che sono facilmente irreperibili e quindi sarà veramente un problema perché se non si trova la logica di comando degli GBT che a questo punto è l'elemento che ci blocca la riparazione non potremo fare altro dunque riassumendo la situazione un'errata connessione della 230 da questa parte ha fatto sì che circolasse una grande corrente tale da rompere il ponte H purtroppo però il ponte H si è tirato dietro anche il driver e anche una parte dello switching che alimenta quella zona 12V infatti se vi ricordate nonostante i componenti siano integri condensatore, diodi e anche la parte qua di controllo la 12V creata localmente appena ha un po' di carico si abbatte forzando allora una 12V buona effettivamente la schedina di controllo si accende ma non va perché i segnali digitali sono tutti assenti e io sospetto che sia cotto il micro infatti qua notiamo un quarto, un micro e questo è veramente un problema forse il peggiore dei problemi perché su questa parte non riesco a intervenire se si trattasse di un componente analogico guasto diciamo lì ci si può provare ma in questo caso quando si interviene sul controllo è poco da fare francamente speravo che il guasto si fosse richiuso solo sulla parte di potenza ma purtroppo si è tirato dietro anche parte del controllo ad ogni modo anche se la riparazione non è riuscita non bisogna buttarsi giù di morale anzi pensare che è stata una grande opportunità per imparare cose nuove applicare un metodo e andare alla ricerca dei guasti e quindi come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao